E' stata rinviata all'11 giugno l'udienza preliminare per decidere sul processo a carico del blogger vogherese Giampiero Santamaria, accusato di stalking, diffamazione e istigazione a delinquere. Santamaria, insieme ad altri due degli imputati coinvolti, ha chiesto di risarcire il danno e chiedere scusa all'ex assessore leghista Massimo Adriatici per i commenti apparsi sulla sua pagina Facebook Politica e partecipazione tra il 2021 e 2022. Offerta che il legale di Adriatici ha fatto sapere di voler accettare devolvendo tutte le somme ricevute alla Caritas. Tra gli episodi citati dall'accusa si fa riferimento alla sera dell'ottobre 2021, quando Santamaria avrebbe seguito Adriatici per le strade di Voghera. Una scena ripresa e postata sulla pagina Facebook, accompagnata da alcune dichiarazioni del blogger in cui Adriatici veniva definito assassino. Inoltre si faceva riferimento ad alcuni presunti contatti amicali tra Adriatici e magistrati della procura di Pavia, che avrebbero condizionato le indagini sulla morte di Yunsel Busettaui, ucciso da Adriatici con un colpo di pistola la sera del 20 luglio 2021. In tutto sono nove gli imputati nella vicenda. A rischiare il processo sono anche coloro che hanno commentato i post ritenuti diffamatori dalla procura. Nei confronti di alcuni è già stato avviato un processo per diffamazione, sempre legato ai post della pagina Facebook di Santamaria. Processo che vede in tutto 30 persone offese, dopo una serie di denunce presentate proprio da Adriatici tra l'estate e l'inverno 2021.